Adesso, anche rispetto a quelli che sono i dati della spesa, noi dobbiamo anche dire che con quei soldi si pagano gli operatori. Il caro signore che stava là in televisione si contratta ai posti in albergo, ci sono delle figure professionali, sociologi, psicologi, che vengono assunti rispetto a questa cosa. Cioè, che vuol dire questa cosa? Che è un marchio che si fanno posti di lavoro con i clandestini. Con i clandestini. Come che vuol dire? Con i clandestini. Alcune clandestini sono posti di lavoro. Come che vuol dire? Guardi, che rispetto all'accoglienza, al di là dei soldi della spesa pubblica italiana, con i soldi dell'accoglienza, si possono costruire anche dei tessuti economici produttivi. I migranti versano le casse del Stato. E viva la sincerità. E viva la sincerità. Con l'immigrazione clandestina si guadagna. E viva la sincerità.